Eccoci, tornati in diretta con BCE Board in attesa della conferenza stampa di Christine Lagarde. Alexandra Giorgeva, andiamo a ribadire quali sono i punti emersi dal comunicato stampa che è stato pubblicato circa una ventina di minuti fa. Allora sicuramente già con la prima frase del comunicato stampa la BCE si conferma molto molto accomodante, pronta ad intervenire e rafforzare le proprie misure in caso di necessità ovviamente legate al Covid e il lockdown che stiamo vivendo non solo in Italia ma all'interno dell'Unione Europea. Intanto i tassi ovviamente invariati allo 0,025 e meno 0,5, il target di inflazione vicino ma inferiore al 2%, il PEP che è stato molto rafforzato, l'ultima volta fortemente rafforzato, oggi rimane a 1.850 miliardi di Euro. E non solo, questa è una piccola specificazione, almeno sino alla fine di marzo 2022, non solo il Consiglio Direttivo continuerà a reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEP almeno sino alla fine del 2023. Per quanto riguarda ovviamente il programma di acquisto di attività proseguiranno a un ritmo mensile di 20 miliardi di Euro, qua non ci sono ovviamente praticamente dei cambiamenti, tutto rimane così come è. Infine il Consiglio Direttivo continuerà a fornire abbondante liquidità attraverso le sue operazioni di rifinanziamento, in particolar modo la terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine. Mi riferisco sempre a Teltro 3 che è stato lanciato tanti tanti anni fa ancora dall'ex presidente della BCE Mario Draghi. Il Consiglio Direttivo resta pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ovvero opportuno, per assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente al livello perseguito in linea con il suo impegno alla simmetria. Andiamo intanto però, propongo almeno di andare a vedere velocemente come si stanno comportando i listini, ovviamente ieri Wall Street ha chiuso a massimi storici, però lì c'è ovviamente un altro motivo. L'insediamento di Joe Biden. Diciamo che i mercati hanno salutato il nuovo presidente, la nuova amministrazione in maniera molto positiva, forse perché ci si aspettano anche un grossissimo pacchetto di simoli fiscali, tantissima liquidità. Intanto il Futsimip cede lo 0,08%, il DAX è l'unico sopra la parità, guadagna lo 0,29%, il Caccaran meno 0,34%. Ci tenevo però a sottolineare che per quanto riguarda Piazza Affari sto vedendo che le banche sono oggi in rosso, uno dei comparti che soffre di più, con intesa che cede lo 0,2%, unicredit 0,44% e medio banca cede lo 0,6%. Quindi le banche in sofferenza, uno sguardo velocissimo anche all'euro-dollaro in questo momento scambia ad 1,21%, quindi si rafforza l'euro nei confronti del dollaro dello 0,4%, invece l'indice del dollaro continua ad essere inchiodato al 90-90,16%, cede un po' di terreno però soltanto lo 0,35%. Questa è più o meno la situazione sui mercati. Ci aggiungo anche che lo stiamo già vedendo, lo spread che naturalmente è monitorato anche per le questioni squisitamente italiane, ma insomma visto che abbiamo giustamente parlato dei titoli bancari che oggi stanno performando non troppo in modo brillante, lo spread è il rialzo dell'1,35%, siamo a 116 punti base, quindi aggiungiamoci anche questo, naturalmente poi l'euro-dollaro la farà un po' da padrone quando Christine Lagarde comincerà a parlare. Intanto appunto la situazione delle borse europee è sparsa ancora però con un per esempio peggioramento sul nostro indice Fuzzimibe che adesso cede lo 0,53%, appena abbiamo iniziato la trasmissione era ancora ancorato alla positività, quindi sopra la linea di parità. Evidentemente i mercati attendono davvero di capire come Christine Lagarde dialogherà con loro. Intanto io saluto Riccardo Paoncelli, Intermedia Analisi. Riccardo, buongiorno, ben trovato con noi in diretta. Buongiorno a voi, grazie per me. Al momento sembra essersi verificato tutto quello che stava nelle attese di questo board della BCE, qual è il commento che si può fare pre-conferenza stampa? Evidentemente la BCE come le altre banche centrali, d'altronde, anche la Fed, non può che proseguire con la politica impostata un anno e mezzo fa, non ci sono alternative. Anche perché l'unico obiettivo che loro hanno è quello di fare in modo che i mercati siano il più possibile stabili e questo non può che passare attraverso la concessione di un'apertura che vada nel lungo termine. Il PEP non è un programma di aiuti, è la previsione di un programma di aiuti. Bisogna chiarire alla gente che quei soldi non verranno dati, sono a disposizione dei membri dell'Unione Europea in caso di emergenza e devono essere chiesti sulla base di ragioni certe. Quindi se il bilancio della BCE si è appesantito è pur vero che i denari sono ancora nelle cassaforti della BCE e questo è estremamente importante perché per esempio ci dice che i consumi interni difficilmente riusciranno a salire. Poi ci sono delle ragioni veramente strutturali che impediscono alla BCE e alla Fed, ma soprattutto alla BCE, di essere sempre molto lontana da quel traguardo del 2% che ormai mi sembra, il traguardo del 2% di inflazione mi sembra veramente una chimera. Ma d'altronde è anche logico, ci si deve chiedere perché è una chimera, perché stentano tanto a crescere i consumi, ma perché è cambiato il mondo. Il digitale è di per sé deflattivo, in ogni caso i consumi dei millennials sono assolutamente deflattivi, quindi non possiamo aspettarci che all'improvviso i consumi interni dei singoli paesi contribuiscano a una inflazione europea. E' assolutamente fuori discussione, quindi la BCE sta combattendo con questo potenziale pericolo deflattivo stile Giappone e nello stesso tempo non può far mancare il suo aiuto all'economia dei paesi europei che sono in agonia praticamente. E' anche il motivo per cui non c'entra la Banca Centrale ma c'entra l'Europa come istituzione, però è il motivo per cui l'Europa chiede soprattutto in questo momento di accelerare anche gli investimenti sul digitale, ma ovviamente tenendo conto di una serie di questioni che a livello globale poi non devono andare a impattare sull'economia interna. Credo che sia un po' tutto collegato Riccardo. Certo, facile a dirsi ma difficile a farti. Eh, certo. Nel senso che la Banca Centrale Europea si scontra anche con una realtà frammentata che non consente una catena di comando corta. E quindi ogni volta ci troviamo di fronte a dover aspettare i tempi che vengono sprecati in economia per avere autorizzazioni che in altri paesi del mondo vengono date in 48 ore. Quindi il pensare che l'Unione Europea abbia una capacità di reazione, per esempio una ricrescita del mercato post pandemia, secondo me è un'illusione. Quando ci sarà, e ci sarà ovviamente una ripresa post pandemica, l'Europa sicuramente non arriverà prima, perché i meccanismi di reazione sono molto lenti. E il problema nasce da questo e nasce dal fatto che non si è mai messo a mano, non si è mai messo a mano alle vere infrastrutture da riformare in tutta l'Europa. E cioè la riforma fiscale, la riforma del sistema bancario, cioè tutte cose che consentirebbero all'Europa di essere veramente competitiva. Così non può esserlo e per cui la BCE, che è una banca molto ricca, tanto è vero che l'Euro continua a rafforzarsi contro il dollaro, non fa altro che tanto che mettere pezzi a colore ogni volta che gli capita il buco. Ma più di quello non può fare, quindi non traspettiamoci nulla, la Garda farà la solita tirata in diplomatichese e dirà qualcosa che consentirà ai mercati di stare tranquilli, tanto è vero che a parte ribassi o rialzi frazionali non mi pare che sia succedendo niente. L'Euro sta 1,25, 1,50, ma stava 1,22 spicci poco fa. Sì sì, siamo 1,21,61 adesso. E appunto, quindi voglio dire, i movimenti non sono significativi. Quello che è significativo è che non c'è una proiezione, una visione di lungo periodo. Questa è la cosa che preoccupa gli osservatori. Cioè qui non si parla mai di cosa succede tra cinque anni, ma ci si chiede cosa succede tra cinque giorni. E non è solo colpa del Covid, lei dice Riccardo. No, assolutamente. Sono assolutamente d'accordo, non è colpa del Covid. Era così anche prima. E il Covid non ha fatto altro che aggravare questa tendenza di tutte le istituzioni europee, non soltanto da vicino. No, infatti volevo appunto sapere se magari Cristian Lagarde farà riferimento al piano più importante dell'Europa, ovvero il Next Generation EU. Lei non manca mai a fare un commento, anzi ha un passato politico, quindi si sente anche autorizzata di, come dire, di spingere un po' i leader europei a, come dire, muoversi. Perché effettivamente, anche considerando la situazione italiana, se vogliamo, con la crisi di governo che abbiamo vissuto, che non si è del tutto risolta, potrebbe fare qualche riferimento appunto al piano Next Generation? Non lo so, sinceramente non so rispondere, ma onestamente potrebbe anche farlo, ma voglio dire, non ha alcun rilievo rispetto alla sostanza di una conferenza stampa della BCE. La conferenza stampa della BCE dovrebbe chiarire agli operatori di mercato, agli osservatori internazionali, al sistema bancario, ai politici, l'atteggiamento della Banca Centrale Europea rispetto alla prospezione economica dello stesso continente nei prossimi 30 giorni, almeno. Ogni volta ne usciamo con delle dichiarazioni di facciata, con delle dichiarazioni soltanto formali, che non danno né ai mercati la possibilità di intervenire, tant'è vero che i mercati poi si basano su ben altre analisi che non sono quelle della BCE, e soprattutto confermano che sono completamente incestati, cioè non hanno più la possibilità di fare nulla, se non quello che hanno fatto. Quello che hanno fatto è sotto gli occhi di tutti, siamo tutti in attesa che i vaccini ci consentano di avere una ripresa economica continentale, e sappiamo che tutto il 2021 passerà più o meno così, perché siamo chiari che il 2021 passerà più o meno come è adesso, con tutte le conseguenze di carattere economico disastrose che ci saranno specialmente nei paesi deboli, vedi il nostro. Quindi non è che la BCE interviene sulle strategie, il BCE le sue strategie le ha denunciate due anni fa e quelle sta attuando. Fine. No, no, è chiarissimo. Allora, Riccardo Poncelli, grazie in termini di analisi, grazie per essere stato con noi e ci sentiamo presto sulle fonti tv, attendiamo dunque tra pochissimo a Christine Lagarde, poi metteremo insieme tutte le varie considerazioni che abbiamo fatto. Grazie, a presto. A sera, alla prossima. Grazie. Intanto si parlava proprio anche dei vaccini, mostro questa notizia che riguarda proprio la distribuzione dei vaccini, perché c'era anche il giallo rispetto all'efficacia per certi versi, ma soprattutto anche c'è stato questo rallentamento a un certo punto nella consegna. Pare che invece la notizia positiva sia questa. Unione Europea, quindi parliamo di Europa, la prossima settimana Pfizer consegnerà il 100% delle dosi previsti. I ritardi accumulati saranno assorbiti entro la metà di febbraio. Questo è fondamentale. Ora, non dico che sarà questa notizia che andrà anche a, come dire, muovere le considerazioni della Banca Centrale, però è altrettanto vero che, lo abbiamo detto in apertura, l'Europa in questo momento è stretta proprio ed è divisa tra la speranza di un piano vaccinale che possa essere sempre più veloce, ma anche i timori legati intanto alle incognite dei vaccini, ma soprattutto alle incognite dei lockdown europei. Quindi sicuramente questa può essere una notizia che un qualche respiro in più agli investitori potrà dare. Mentre attendiamo l'ospite successivo per poi avviarci alla conferenza stampa, vediamo la schermata generale degli indici, così li vediamo tutti insieme, che ancora mostra una situazione contrastata in Europa con il Fuzzi Bimbeck, che ha leggermente recuperato, ma cede comunque lo 0,19%. Il DAX di Francoforte invece, seppur un po' più debole, resta sopra la parità, più 0,19%. Il CAC di Parigi invece sotto la parità. Ieri Parigi ha messo in atto le nuove restrizioni, quindi vediamo anche come gli indici e il mercato si muovono parallelamente, anche alle decisioni che vengono prese a livello governativo, attendendo invece le mosse della Banca Centrale Europea. L'Ibex di Madrid resta sotto la parità, meno 0,15%. E poi l'euro-dollaro che è un po' il timone oggi della situazione, con l'euro ancora rafforzato, ma questa non è una novità. Ormai stiamo ragionando intorno al potenziamento della moneta unica nei confronti del biglietto verde, 0,44%. Il cambio è a 1,21,59%. Alexandra, vogliamo ribadire giusto due cose, poi chiamiamo in causa l'ospite. No, assolutamente sì. Ecco, per il momento comunque l'atteggiamento della Banca Centrale rimane estremamente accomodante. e sarebbe interessante appunto capire con il nostro ospite quanto tempo però possa continuare questo atteggiamento e non solo, se potrebbe preoccupare ancora di più questa dipendenza degli stessi governi nei confronti della BCE, perché si parla tanto della Next Generation UE, però tuttora non ne vediamo i risultati. Ecco, vediamo se ha già sentito la domanda, che era una riflessione da parte di Alexandra, ma la giriamo, insomma, con un punto interrogativo a Gianluca Lobefalo, che è con noi per questa parte della... Eccolo qui, buongiorno Gianluca, grazie per questa presenza. Allora, un avvio generale sulle attese anche nel medio periodo rispetto alle prese di posizione delle banche centrali europee. Prima abbiamo detto, insomma, nessuno si sognerebbe di andare contro le banche centrali, cioè una forma di dipendenza ormai. Sì, esatto, si è creato... Buongiorno, grazie per avermi ospitato. Effettivamente sì, si è creato una situazione di dipendenza che negli anni passati sembrava essere un po' un caso limite che avrebbe potuto provocare quello che poi abbiamo adesso visto, secondo molti analisti, essere il moral hazard e questa dipendenza a parte delle banche centrali. effettivamente non è per quello che è stato fatto durante la pandemia o durante i periodi di crisi per quanto riguarda l'ICB, parliamo dei primi interventi 2011-2012 e poi il 2015 quando fu lanciato il QI o della Fed durante il 2008-2010. Il problema è stato che ci sono continuati molti a fare questa linea di interventi anche in periodi più calmi dei mercati e quindi adesso si è creata questa dipendenza che effettivamente è un problema al momento. Alexandra. Buongiorno Gianluca, anche da parte mia, infatti, avrei voluto chiederti se secondo te i segnali che sta mandando la BCE fino a questo punto sono abbastanza rassicuranti per gli operatori di mercato ma insomma anche per gli investitori ovviamente soprattutto quelli che vorrebbero investire in Europa. Sì, allora sicuramente rassicuranti, cerchiamo di essere honesti, non hanno un'alternativa. Io sentivo anche prima, avete fatto un giusto punto riguardo alla reazione che i mercati hanno mostrato dopo le parole della Lagarde confrontate con Mario Draghi. Ora, per onestà, diciamo anche che dobbiamo dare un po' di tempo a Cristi Lagarde ricordiamoci che agli inizi anche con Draghi c'erano stati momenti di tensione a seguire delle sue conference quindi diciamo che i mercati devono anche ricalibrarsi sullo stile che ogni presidente ha e chiaramente non si può aspettare che sia ognuno esattamente usi lo stesso tipo di parole di enfasi ad una frase o ad un commento, ad una politica. Quindi prima di tutto fiducia alla Lagarde che è vero, non è stata in banca centrale ma ha guidato in maniera estremamente brillante il fondo monetario e qualunque giudizio, soprattutto in funzione di eventuali reazioni dei mercati mi riserverei un po' di tempo prima di darlo. Detto questo ha anche avuto la sfortuna di trovarsi in una delle più grandi crisi della nostra generazione appena insediatasi e quindi chiaramente dobbiamo dare un po' di tempo al mercato per interpretare bene le parole del nuovo presidente. Detto questo i mercati sì possono sentirsi confortati dalla politica prevista della Banca Centrale Europea che come dicevamo prima ormai sono all'unisono cioè non è che è molto diverso da quello che vediamo nella Banca del Giappone quello che vediamo principalmente dalla Fed che comunque continua ad avere un ruolo primario sia come intervento che come segnale al mercato perché tutte queste manovre soprattutto hanno un ruolo di segnale non è tanto la quantità, la dimensione di un singolo intervento come diceva prima il collega il QPP è infatti soltanto una promessa ma quello che è il valore è il signaling e come il mercato legge questi segnali. Esatto, peraltro ci sono un po' di commenti dei nostri telespettatori però un commento flash su una considerazione ancora di come i mercati si pongono diversamente nei confronti di Christine Lagarde e di come si ponevano nei confronti di Mario Draghi lo stavamo già anticipando intanto un amico ci scrive secondo me oggi la sterlina crolla parlando di Forex perché poi c'è tutto anche il tema Brexit che verrà analizzato da Lagarde che ha detto insomma dei segnali positivi quantomeno sono arrivati da lì e ci commentano anche i nostri analisti alcuni dei nostri ospiti che intervengono salutiamo Scattacoltrende Enrico G. Draghi chiese le riforme disponeva di un bazooka con tutte le munizioni Miss Lagarde ha detto le stesse cose ed è stata crocifissa oltre ad avere in mano un cerino quasi spento indubbiamente la situazione è ancora più aggravata Gianluca un commento da parte tua ma poi appunto è stata crocifissa forse fin dalla sua prima uscita sortita sullo spread lo dicevamo prima che era un po' messa all'angolo cosa ne pensi? e poi ti salutiamo io credo che queste cose vanno ben storicizzate io vorrei ricordare che nell'estate del 2012 il pomeriggio in cui Draghi uscì con quella frase che è diventata leggendaria che whatever it takes and believe me will be enough la mattina era stato quasi grigliato crocifisso da alcuni investitori in una conferenza pubblica quindi potremmo fare questo commento sulla Lagarde spostandoci al 2012 e cambiando il nome di Draghi e poi adesso tutti ricordiamo giustamente Draghi come in alcuni casi il salvatore dell'euro è probabilmente uno dei migliori presidenti che la Banca Centrale Europea avesse mai potuto sognare di avere quindi ribadisco secondo me è fondamentale avere prudenza lo diceva anche il collega prima di me purtroppo siamo costretti ad avere questi orizzonti queste window temporali a giorno, intraday queste sono manovre che hanno degli effetti nel lungo periodo quindi così come Draghi ha avuto del tempo e adesso è considerato colui che ci ha salvato ha salvato l'euro io sono pienamente convinto che ricorderemo Christine Lagarde come una straordinaria presidente della Banca Centrale non a caso qualcuno vorrebbe Draghi come salvatore dell'Italia quindi ormai la sua figura, la sua immagine è legata alla salvezza prima dell'Europa va bene, battute a parte Gianluca Lobefalo, grazie ci sentiamo presto su Le Fonti TV grazie mille per aver condiviso con noi le tue impressioni vi salutiamo per il momento per la pubblicità perché Alexandra Giorgeva deve prepararsi per seguire la conferenza stampa seguiamo in diretta dall'istituto di Francoforte tutto quello che succederà e poi naturalmente con le riflessioni post perché continuiamo fino alle 17.30 io vi saluto, vi lascio in buone mani Alexandra, aggiornaci su tutto torniamo subito con la conferenza stampa restate con noi grazie a tutti grazie a tutti